salve ragazzuoli bentornati sul canale siamo di nuovo nella nostra serie di sopravvivenza per fare appunto un nuovo episodio altrimenti che cacchio stiamo a fare qua allora ho scoperto chi è che faceva quel casino lì su me ero dimenticato ma riguardandomi un video lassù io ho chiuso un villager signori attenzione là c'era un villager non mi ricordo perché l'ho chiuso e non mi ricordo manco se era quello che non lavorava ma in teoria in teoria è uno che lavora quindi c'è un villager qua che dobbiamo portare nel nostro villaggio allora che cosa voglio fare in questa puntata intanto mangiare altrimenti crepo male vediamo se ci abbiamo del cibo probabilmente sì me lo auguro tantissimo da qualche parte dovrei avere qualcosa è infatti abbiamo del cibo ho sempre l'inventario che è un disastro non mi dite niente ma purtroppo va così signori va così allora dicevo voglio fare una cosa molto importante prima di iniziare la costruzione di colonne stile nani cocazzi e mazzi ho guardato questo villaggio carino però si può fare molto ma molto meglio quindi inizieremo a fare un update di questo villaggio lo guardiamo un attimo dall'alto perché ci piace io spero tanto che sti alberelli non mi crescano in modo spontaneo l'ho già detto e lo ripeto perché non è che ci esco proprio scemo cioè sono belli è per carità però se poi mi si fa tutto pieno di alberelli è una rottura di cazzo diciamoci la diciamoci le cose come sta allora saliamo qua su e mi sono fatto la salita per non morire allora questo villaggio verrà modificato quindi faremo un upgrade sposteremo pure quello qua dentro forse lo potrei fare leggermente più grande quindi si allungarmi un pochino di là non lo so ancora non voglio fare una cosa enorme però qualcosa di meglio la dovremmo fare per fare questa cosa mi servirà del legno perché le casette le faremo leggermente più grandi con un tetto decente perché così fa schifo i sentieri allargheremo metteremo pure un po di robetta utile ok pensavo di morire male invece no e poi voglio farci una sorta di recinto per fare il recinto ho bisogno di legno alla mia idea è ho visto un progettino fatto online da qualche parte che era carino quindi per fare tutto quello che dobbiamo fare mi servirà esattamente lo spruce sapling quindi ora mi metto a posto tutto sto casino che c'è nell'inventario e iniziamo il nostro progetto folle cioè di ottimizzare il villaggio dei villager ovviamente che sia un villaggio chi cacchia vorrà voi che ci abiti per forza i villager tanto mettiamo pure a cucina robetta da mangiare perché altrimenti qua facciamo la fame nera non ho più insomma ce l'ho il carbone ok facciamo così e siamo tutti quanti contenti allora intanto fatemi un attimino spostare devo configurare ecco la luminosità dello schermo che ce l'avevo bassa non vedevo un cacchio adesso è molto meglio allora poso un po di cose nel mentre in tutto ciò però ragazzi visto che c'è un mending sul piccone e il mio piccone sta non dico morendo però insomma si sta avviando per quella strada io andrei a fare un po di esperienza così tanto per aggiustarlo quindi per fare esperienza ci infiliamo di prepotenza nella nostra farm di scheletri potentissima poi un'altra cosa che ho pensato qua ragazzi io qua devo fare l'ingresso per tutte le miniere cioè praticamente faccio questo è l'ingresso di una miniere poi qua le varie scalette che scendono giù per i vari per le varie altezze con cui poi scaviamo insomma è un'idea un po così strana però qualcosa ne verrà fuori ora vado a fare l'esperienza riparo il piccone e ci vediamo tra un po suppongo ecco qua piccone nell'altra mano intanto mi riparo pure questi archi che poi magari li possiamo usare per fare robe sicuramente è così libero pure un po di spazio qua poi pure dobbiamo sistemare perché comunque è una zona abbastanza come dire primitiva non c'è ancora niente di sistemato è tutto molto così alla rinfusa quindi faremo una cosa sistemata dove andare a posare i nostri archi le frecce e tutto quello che ne viene dietro questo qua che cosa c'ha un breaking 1 cioè tra tutti gli scheletri che ho seccato finora un arco incantato mi è arrivato con un breaking 1 non lo so ditemi voi se è buona sta cosa secondo me non è tanto buono allora intanto il nostro piccone si sta riparando molto lentamente perché sta farm a fa cagare a proposito qualcuno di voi non mi ricordo chi dopo lo andiamo a vedere mi ha dato dei consigli su come ottimizzare questa farm non mi ricordo né il nome della persona nei consigli però ho letto questo commento dopo lo andiamo a vedere ok signori un po' l'ho riparato ma già mi sono rotto le palle però va bene così non è che ci serviva proprio il piccone full riparato quindi andiamo a fare cose allora prima di tutto voglio ingrandire un po' questo villaggio che al momento è un po' troppo piccolino quindi butto giù un po' sta parete lo ingrandisco da questo lato faccio una cosa proprio easy non chissà di quanto però il giusto perché secondo me un po' più di spazio ecco per qua devo andare a sistema qua sotto ma non ce ne frega niente dicevo un po' più di spazio secondo me ci sta anche perché avendo qua io i villager che ti danno gli smeraldi in cambio di patate di carote volevo farmi una piccolissima farm automatizzata quella col dispenser con gettato mi ricordo come si chiama comunque quella farm che tu praticamente pianti spara la bombina automatico e siamo tutti contenti per fare questo un pochino di spazio in più mi servirà magari una torcia la mettiamo se non vediamo un cacchio ok facciamo una cosa molto rapida ma io intanto qua c'ho dei villager liberi che per fortuna stanno dormendo mi ero scordato e forse sottolineo forse sarebbe il caso di chiudere sti buchi prima che qualche villager decide di fare il pirla e buttarsi qua sotto che quelli villager fanno così c'è uno uno gli vuole dare fiducia e di quella intelligente noi sono dei deficienti incredibili una roba assurda quindi meglio mettere così poi qua ci vanno dei blocchi naturali altrimenti poi il muschio non si rigenera come al solito ci metterò questi in questo modo qua perfetto rimettiamo la spada e torniamo a scavicchiare ok abbiamo allargato un pochino purtroppo piove una giornata di merda vabbè non fa niente abbiamo allargato un pochino lì quindi adesso iniziamo a fare quello che dobbiamo fare cioè ampliamo questo villaggio ricostruiamo le casette io mi intanto mi son perso come al solito ok di qua allora intanto il messaggio che vi dicevo prima era di one a 49 91 che mi dice che la farm è poco performante uno perché siamo in modalità normale e non difficile e questo si può rimediare e l'altro perché ho messo dei blocchi sopra lo spone lui ci consiglia di fare un sistema sistema d'acqua per farli sponare lì e poi buttarli giù è una cosa che possiamo prendere sicuramente in considerazione ok abbiamo scritto pure questo rimettiamo il nostro libro qua sopra e andiamo a a farmare un po di legno signori perché a me serve lo spruce che dovrebbe essere chi cacchio si ricorda qua eccolo qua un bel po di spruce anche perché ho qua di spruce quanto ce l'ho non ce l'ho semplicemente va bene vado a farmare alberelli la bombi ce l'ho me ne porterei anche un altro po di bombi da sto punto ma si me la porto tutta faccio anche perché me ne servirà un bel po per quello che voglio fare perché voglio recintare intanto voglio fare il recinto proprio con legno grezzo e quindi è che palle però sta pioggia cioè praticamente è mezz'ora che sta piove due coglioni incredibili per quale cazzo di motivo mi sto arrampicando non lo so andiamo qua ok ma domanda ma gli alberi sul muschio crescono no perché se crescono è inutile che vengo qua su a morire diciamo un attimo sta prova non mi ricordo cioè più che non mi ricordo non ne ho proprio idea eh vabbè ma allora chi se ne frega scusa li vado a fare direttamente laggiù tanto c'è tutto quello che mi serve più o meno sì posso portarmi dei blocchi da costruzione mi porto quello e faccio tutto quanto sotto dei villager allora mi servirà uno stone cutter perché non ho voglia di fare niente fondamentalmente mi porterò poi no questa roba non mi serve della pietra probabilmente del pietrisco che già sta giù però mi porto anche della pietra liscia che magari mi viene voglia di usare quella ok eppure questi non si sa mai in teoria dovrei avere tutto ok andiamo a farmare un po di alberelli e vediamo come viene fuori sto villaggio intanto qua devo ancora fare il sistema per scenderci dentro vogliamo portarci anche l'altro villager no ce lo portiamo dopo che altrimenti quello poi rompe le balle già lo so allora iniziamo è purtroppo piove signori non ci posso fa niente vediamo se riesco a far crescere questi quali posso far crescere così come il dark hook sì solo che mi sfan cura tutto il terreno porca zozza non è nemmeno brutto e devo dirvi la verità quasi quasi mi piace va bene prendiamo un po di sti blocchi dai intanto non so se lo sentite ma c'è uno slime qua sotto io lo sento tantissimo e sono troppo curioso allora in teoria dovrebbe stare qua dentro vediamo se è così spada alla mano perché la spada mi è finita laggiù non ne ho idea spada alla mano dove cazzo la si andava da qualche parte io o porca zozza forse da qua sono venuto esatto vediamo se è vero vediamo eccolo qua ma guardalo quanto è gigante porca zozza stai calmo ragazzo signori ma abbiamo una farm di slime proprio comodissima l'ho già detto lo ridico e lo piace troppo ok siamo morti tutti sono morti tutti sono morti tutti perfetto possiamo risalire da dove si risaliva probabilmente da no non da qua probabilmente da qua si probabilmente da qua datemi un blocco da costruzione normale questo è da qua che si sale devo fare una sorta di scalettino un po più comodo perché così è una rottura di balle invece mi faccio uno scalettino che scendo qua e poi giro e vado a seccare gli attrezzini giusto giusto ok mi sono fatto il posto perfetto posso andare qua e qua richiudiamo momentaneamente va bene così allora torniamo a fare le nostre cose quindi buttiamo giusto albero gigante che mi sarebbe venuto proprio enorme sto cosa però così non posso più salire perché non posso più salire perché sono un genio del male incompreso e ti facciamo così chi se ne frega ok siamo arrivati in cima allora vediamo quanti log abbiamo preso è non male un bel po di log effettivamente forse sarebbe il caso di farmi una doppia cesto potrebbe essere il caso ok iniziamo a buttare le cose qua e ragazzi io devo necessariamente fare un altro alberello aspettiamo che mi butti un po di sapling così ecco qua così non li perdiamo ed ecco un altro alberello pronto per essere mazzolato allora me ne serviranno un bel po di più di log lo so perché praticamente voglio fare dei dei pilasti di legno qua tutto intorno e quindi me ne serviranno di più molti di più sarà un po una rottura di balle lo so però purtroppo ci tocca signori ci tocca che cosa cazzo mi uscì guardate che albero ma è una figata non l'avevo mai visto un albero così sponato naturalmente bellissimo è venuto pure a trovare un enderman cioè ditemi voi sti cacchio di enderman se vengono a fregare i blocchi alla gente io non lo so non si fa così è che cacchio allora ragazzoli io sto continuando a scavare praticamente a scavare mo a buttare giù alberi perché veramente mi serve un botto di regna poi stavo pensando il nostro villaggio secondo voi sarà al sicuro con tutta questa roba che ci stiamo mettendo oppure dobbiamo mettere qualche altra cosa per rendere più sicuri i nostri villager allora io stavo pensando sicuramente un iron golem non è che ci starebbe male anzi secondo me ce lo metterò un bel iron golem a protezione tutta sta gente e poi stavo anche pensando di mettere delle torrette non so se avete presente quelle torrette che si fanno con gli snow golem i pupazzi di neve insomma per capirci praticamente faccio delle torrette magari 23 non tantissime circondate con questi snow golem e la torretta la circondo magari con del fuoco in modo che quando sparano quelle palle di neve che non fanno danno almeno gli danno danno da fuoco ad eventuali mob che dovrebbero sponare qua in teoria non dovrebbe sponare nessuno perché in teoria è tutto illuminato poi c'è l'iron golem che chi arriva lo secca se proprio tutto questo non dovesse bastare ci mettiamo pure due tre torrette dei questi magari sopra in modo che vengono saccagnati mali in teoria i nostri villager dovrebbero essere tranquilli giusto pensi qualcosa perché ci sono due che hanno lo stesso lavoro se c'è solo un blocco non lo so succedono cose molto strane in questo villaggio vabbè non è un problema intanto a sapling penso che siamo a posto cioè ce n'ho un botto io continuo un attimino a farmare alberelli ragazzuoli perché come ho detto il legno non basta mai potresti bravo guarda quanto cavolo sono alti sti cosi questo è più alto decisamente più alto cioè enorme sto coso grandissimo bene continuiamo lo scavaggio il picconaggio il come cazzo la si dice insomma rompiamo la legna allora io direi che come legno signori forse basta non lo so però intanto iniziamo a fare le case di questi tipi allora per fare le case di questi tipi devo prima rimettere tutto quanto in verde perché se non ci capisco niente quindi di nuovo con il nostro bombi andiamo a sparare un po di bombi su sti blocchi di muschio e tutto diventa di nuovo verde con tutta sterbetta odiosa e schifosa è una rottura di balle è comodo perché comunque fai subito subito però terbetta sinceramente non è che mi piaccia tantissimo poi ce ne metterò un po una volta che abbiamo finito però così in ordine sparso non mi piace proprio questi tappeti orribili ecco lo sapevo doveva succedere questa cosa questo lo piazziamo momentaneamente quassù che sta tanto bello andiamo a mettere questo qua e leviamo sta roba ok più o meno tolto tutto più o meno perfetto allora iniziamo a fare queste case di questi villager intanto inizierei demolendo questa che secondo me fa abbastanza schifo ok il poverino stava pure dormendo non è un problema gli leviamo tutto bello tranquillo gli troviamo pure sto blocco che tanto al momento non se ne fa niente mettiamo una torcia che schifo non ci fa ok lui continua a dormire io gli passo addosso non gliene frega niente va bene così va bene così ovviamente illuminiamo un attimino meglio perché non vorrei mai che mi spona un creeper mentre sto facendo dei lavori cosa probabilissima perché creeper ce l'hanno per vizio intanto mi sono appena reso conto che c'avevo pure una crafting table là qua sotto c'è ancora del puzzle attenzione era puzzle non lo so vabbè non c'è più allora come voglio fare queste case prendiamo un bel lo stack di spruce log e iniziamo a delimitare quello che dovrebbe essere più o meno il confine allora io questa casa la vorrei fare sinceramente proprio qua dentro incastonata nella montagna secondo me non è male come idea allora facciamo un attimino qua alta 3 perfetto questo qua prima o poi lo butterò fuori dal suo letto ma non non adesso quindi qua magari ci potrei mettere 1 2 e 3 così perfetto un altro lo metterei qua così uno e il 3 vabbè lo mettiamo così rimettiamo una torcia qua e questo già mi piace ora vediamo che blocchi mi son portato allora c'ho della pietra liscia non è tantissima sicuramente non è tantissima vediamo quanti cosi di questi mi escono 64 va bene 64 non sono tanti non sono nemmeno pochi però per fare quello che devo fare io forse non mi basteranno potrei provare con la cobblestone che comunque c'è il suo fascino non è che dobbiamo trascurare la nostra bella cobblestone perché ho sempre l'inventario stracarico di monnezza cioè che problemi ho ok liberiamoci un attimo tutta sta caciara va bene perfetto dicevo proviamo un attimino con la cobblestone che cosa possiamo fare perché secondo me l'accostamento e infatti non è brutto come accostamento non è per niente male questo si potrebbe anche fare qualcosa del genere sicuramente qua facciamo così questo lo facciamo arrivare qua magari vabbè giusto perché per l'interno poi se non viene uno schifo quindi facciamo una roba fatta per bene dai mettiamo queste cose così pure qua belli tranquilli ok va bene la porta di questa casa la farei qua perché così è visibile qui quindi chiudiamo con questo in questo modo qua e potrebbe anche avere un senso ora iniziamo a fare il tetto di questa casa il tetto lo faccio proprio in spruzzo normale perché è giusto così quindi scraffettiamo un po di roba parte che forse ce l'avevo pure qua dentro ce li ho e non li vedo sono cieco questo che cos'è o planks non lo so vabbè non li vedo tra affettiamo la poste affettiamo di tutti ma chi se ne frega allora facciamo un po di scalette ecco qua le nostre scalette e proviamo a fare questo tetto a questi tipi però secondo me mi servono pure un po di slab gli slab ragazzi sono sempre utili slab perché ti servono per fa quei dettagli che altrimenti che gradino riesce a fa tipo qua mettere un gradino qui che spunta non è proprio il massimo invece secondo me con lo slab viene meglio a che altezza fare lo slab io lo farei a questa altezza qua possiamo provare vediamo che succede se lo facciamo così facciamo tutto una uno slab che gira intorno in questo modo non in questo modo maledetto ma in questo modo qua così ho sbagliato tantissimo e mi attrattene inganno questo che non ci dovrebbe stacqua manco tu ci devi sta qua scusami è ma ne servono i materiali non è che li posso abbandonare così allora dicevo potrei fare qualcosa di questo tipo è tutto molto sperimentale già esteticamente non è che mi dispiaccia come cosa ora ci arrampichiamo un attimo qua su usando questo e proviamo a mettere dei gradini storti non è così che li volevo mettere ma è così che li volevo mettere vediamo che effetto fa facendo una cosa di questo tipo ecco metto un gradino qua poi giro sono shiftato quindi tutto va bene siamo tutti contenti qua giustamente ci stanno sti blocchi che rompono le balle tantissimo lì potrei anche sfasciare un attimo tanto per avere un po più di movimento potrei fare una roba del genere e poi potrei continuare a fare così allora questo sicuramente deve fare il giro per forza quindi così vediamo un po da lontano quel che effetto fa non è male non è male si può fare di meglio per carità però non è male mi piace qua lo facciamo così e poi se ne va dentro la montagna ma al momento non riesco a metterlo mai forse ci riescono viene storto non è venuto storto incredibile ok sfruttiamo questo blocco se ci riusciamo ci siamo riusciti tantissimo qua facciamo così così ok e qui arriviamo fino in fondo ovviamente così qua possiamo sfruttare questo che già è a portata di mano potremmo fare una roba del genere e lo andiamo a chiudere più o meno così questo blocco qua ci piace qua potremmo pure metterci una specie di canna fumaia qualcosa però qua ragazzi attenzione perché qua c'è pericolo effettivamente qui la cosa potrebbe essere pericolosa perché magari qualcuno da sopra si butta allora va bene così va benissimo qua dovremmo un po un casino perché giustamente vabbè che qua io chiudo che chi se ne frega non si vedrà mai nulla allora vediamo un attimo da lontano come sta venendo non è male continuiamo con la cobblestone tanto per farci un'idea però forse lì non la devo mettere la cobblestone devo mettere qua perché se qua ci viene la porta ovviamente e io voglio farci delle finestre la finestra devo fare per forza qua giusto dovrebbe essere giusto magari mettiamo solamente una finestra con un blocco però stavolta ci metterò il vetro non adesso perché non ce l'ho ancora però poi ci andiamo a mettere il vetro qua possiamo fare una bella finestra così bella ampia sempre da uno in questo modo qua ok sicuramente è più carina di prima chiaramente ci vogliono ancora dei dettagli quindi metteremo dei cespugli una roba del genere questo lo togliamo tantissimo perché non ci interessa possiamo fa così e questo è letto lo andiamo a mettere dentro giustamente ma dobbiamo rompere tutto perché non è che possiamo lasciare il nostro villager a dormire così alla ghiaccio ora sti blocchi strani ok chiudiamo tutto leviamo tutto bello sistemato qua chiudiamo così evitiamo strane cose e ci serve un pavimento il pavimento qua dentro io avevo pensato di farlo in matto possiamo provare con gli slab di stone brick vediamo che cosa ne viene fuori ce li ho già perché sto andando di là perché giro e perdo tempo in questo modo inutile non lo so allora stone brick stone brick slab come vieni secondo me potrebbe anche venire bene ok la torcia certo che se ne è preso un botto di stone brick quindi uno stone brick andrebbe pure qua ma devo farmi degli altri slab voglio risparmiare perché di pietra liscia ce n'ho poca di stone brick già ce l'avevo porca zozza avrei potuto metterla a cuocere effettivamente non sarebbe stata una brutta idea allora cosa che non mi piace sta pietra che si collega qua mi fa un po schifo vediamo se posso fare un altro tipo di di stile aspettate voglio provare a fa sta cosa tanto per capire che ne viene fuori se faccio così a te ti tolgo e ne metto uno quassù così e qui magari ci mettiamo dell'altra copia è fatto venire un tocco maledetto assassino ma ci mettiamo dell'altra come quello così non mi piace no così sicuramente non mi piace non c'entra assolutamente nulla allora il problema raga è semplicemente che non mi piacciono le finestre qua ma quello è il problema che mi faceva abbastanza schifo per il resto andava bene come stavamo facendo quindi riprendiamo il nostro slab di spruce e così è c'ha senso poi qua ci metteremo qualcosa per decorare però secondo me così va bene poi qua sotto che cosa crea perché a questo che era per salire che non c'entrava assolutamente nulla con tutto il resto qua farei così va beh questo muro chiaramente qua chiudiamo e la ci vorrebbero dei gradini gradini che non ho ma tanto essendo un muro cieco fondamentalmente io posso fa una roba di questo tipo questa parete per il momento la lasciamo così non ci interessa vediamo dall'esterno che effetto fa vediamo con le porte di spruce soprattutto che effetto fa secondo me dovrebbe venire bene perché la porta di spruce se non mi ricordo male non è brutta no no non è brutta dai scusatemi un attimo stare sempre in mezzo ai coglioni però dovrebbe essere ho sbagliato tipico dovrebbe essere così non è male non è male è ancora tutto da da studiare non ci non ci emozioniamo prima del tempo che qua siamo ancora in fase di progettazione mettiamo un'altra torcia qua intanto qua dentro ci poggio questo due secondi poi le arrederemo pure all'interno però per il momento non mi dispiace qualche zombie si può buttare qua probabilmente sì probabilmente da lì su secondo me usiamo sti blocchi che tanto gli sfasci solo che li guardi io a questo punto farei così ecco così posso pure mettere un altro gradino qua che schifo non ci fa da qua su qualcuno si può buttare no però magari dopo lo alziamo va benissimo qua possiamo sfasciare questi ci interessa proprio niente ok allora diciamo che non è malaccia come cosa questo lo sfasciamo e qua ci mettiamo un altro blocco di moss qualcosa chiama moss questo così moss perfetto ok una casetta leggermente più decente di quell'altra l'abbiamo fatta la finestrella ci sta per il momento non c'è il vetro però magari vado a prendere un po di sabbia e ce lo metto non è un problema allora una casa lì l'abbiamo fatta io poi farei questa la buttiamo giù e anche questa purtroppo ha raggiunto il suo limite di sopravvivenza quindi la sfasciamo e la rifacciamo perché così fa abbastanza schifo allora intanto stiamo facendo ti stavo prendendo ad accettate in bocca ragazzo non era proprio il caso sinceramente dicevo intanto facciamo una roba del genere chi leviamo pure il letto così si impara a venire in mezzo ai coglioni mi sembra anche giusto ok allora quasi farci faremo quattro case secondo me di più no blocco glielo possiamo togliere così quel uno dei due dovrebbe perdere il lavoro è se eri tu quell'impostore maledetto allora io un'altra casa la farei qua come la facciamo sempre nello stesso stile le voglio fare uguali perché altrimenti poi diventa un casino non voglio fare una cozzaglia di roba c'ho troppe cose ho sicuramente troppe cose qua dentro ragazzi è un casino questo lo mettiamo qua mi prenderò della cobblestone giocelo mi servono questi ma questi e anche questi ok vediamo se possiamo un attimo unire dei blocchi sì allora facciamo un'altra casetta quella l'abbiamo fatta così questa la facciamo un pochino più corta tipo qua due tre ok questa qui la faremo così 1 2 3 lunga e secca mi piace mi piace e qua facciamo così 1 2 3 perfetto secondo me è giusto così prendiamo poi la cobblestone come abbiamo fatto prima tac 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 e tac bellissimo levati dalle balle ragazzo che sto facendo cose fammi fare cose qua ci facciamo delle finestre così secondo me potrebbe anche andare bene e da questo lato chiudiamo togliamo sta torcia qua la mettiamo una qua vabbè fuori già ci sta ne mettiamo un'altra qua poi le sistemiamo ste cose qua pure chiuderei così l'ho messo l'altro pezzo delle cose sì l'ho messo ok quindi facciamo così ma io quando la finestrella pure ce la lascerea sto poverello dai magari una cosa del genere qui non serve la finestra mi serve dell'altra cobblestone attenzione signori la cobblestone va via come il pane però la cobblestone va benissimo che vada via come il pane tanto chi se ne frega qua stessa cosa sfasciamo tutto e qui magari il pavimento lo facciamo in un altro con un altro blocco ma non tanto per una questione stilistica quanto per una questione che non c'è blocchi quella la cruda realtà magari potremo provare a fare degli slab di plank vediamo degli slab di plank ciao degli slab di oak volevo dire vediamo che cosa succede se facciamo una roba del genere ecco io li vorrei scusami è ma sti semetti di merda o non è perché uno vuole diventare volgare ma che cazzo la ci faccio con sta roba niente ok non è nemmeno c'è o mi piace quasi più del listo un brick effettivamente è carino allora intanto mettiamo il letto dell'amico fritz qua così mettiamo questo blocco momentaneamente li metto dentro poi li sistemiamo e qua ci mettiamo una porticina lui è contento apre casa sua ci va dentro grazie grazie prego prego e siamo tutti quanti contenti qua ci facciamo il solito giro costi slab che probabilmente non mi basteranno mai manco se lo pago ma tanto non ce ne frega perché questo tipo di legno ce ne abbiamo in grosse quantità direi di sì quindi ci facciamo altri slab e io direi ma posso fare i gradini con legno qua no troppa grazia vabbè c'ho voglia di fare un cacchio questa è la verità facciamo così abbiamo altri gradini e siamo tutti quanti contenti quindi mettiamo questo così perfetto allora come stile è ancora acerbo me ne rendo conto perché mancano i dettagli ricordatevi ricordo cioè segnatevelo proprio quando fa delle costruzioni sono i dettagli che fanno la differenza dove fa la costruzione più bella del mondo ma se poi ti salti i dettagli viene una merda invece mettendo i dettagli tutto assume un aspetto più bello e poi vedrete non ho ancora idea di quali dettagli mettere però poi vedrete fidatevi allora qui facciamo così il solito giro di scalette per fare il tetto eccoci qua belli felici questo detto lo proprio l'andiamo incapsulare nella montagna che è una cosa che mi piace molto è qua pure dobbiamo qua attenzione perché quasi rischia parecchia qua bisogna sistema tutto che uno dall'apo scende tranquillo forse sarebbe anche il caso di sistemarlo adesso e non aspettare come lo sistemo per il momento con della coblesse allora qua la gente dove potrebbe arrivare intanto mettiamo una torcia qua e mettiamo la torcia pure qua qua abbasserei così in modo che sicuramente da qua non possono buttarsi in teoria no e qua farei un muro a a mo di protezione si non è bellissimo ma poi questi dettagli poi li sistemiamo o mi serve solamente qualcosa che evita la gente che gradino gradino viene a rompere le palle a me qua perché noi di là ci andiamo da qua questa zona qua poi la butteremo giù per il momento va bene così quindi qua io chiuderei un attimo per sta tutti tranquilli mettiamo un'altra torcia qua che non si sa mai le torce ragazzi sempre meglio abbondare e qua ovviamente che fa in altra torcia non ce la metti in teoria da qui non dovrebbe poter arrivare nessuno magari da qua potrebbero arrivare qualcuno era un casino qua però è proprio un casino comunque quelli scendendo scendendo ci arrivano i mob vabbè poi poi ci ragioniamo per il momento diciamo che siamo sicuri ok ci avvaliamo del fatto che abbiamo le torce e quindi in teoria i mob non possono sponare e se non sponano non possono manco infilarsi dentro la teoria dovrebbe essere questa poi la pratica speriamo che sia uguale alla teoria se no mi perdo i villager e non è che mi piaccia molto tutto quello che ho fatto per prenderli sti bastardi maledetti ok facciamo così allora qui possiamo tranquillamente chiudere in questo modo che secondo me è pure carino ci sta qua dietro ci mette un'altra torcia torce da tutte le parti poi sistemiamo non è male nemmeno questa casa effettivamente due casette belle grandi e ci abbiamo comunque ancora un sacco di spazio ora è arrivato il turno di un'altra casetta butto fuori questo non lo so allora io un'altra casetta qua sicuramente la farei proprio tranquillissimamente allora qui che stile facciamo qua abbiamo sti blocchi maledetti di tappeti osceni che non mi piacciono proprio cioè magari in un altro contesto sono pure carini ma qua purtroppo no io questa puntata vi sto riempiendo di chiacchiere cioè mi sto rendendo conto che sto parlando in continuazione magari potrebbe risultare fastidiosa questa cosa non lo so spero che non vi dia fastidio nel caso risultasse fastidiosa ditemelo che evito di parlare così tanto ma è per non fare i tagli capito perché se sto zitto giustamente che faccio che vi faccio vedere dieci minuti di silenzio mentre costruisco uno deve riempire il silenzio e allora lo riempi parlando è l'unica cosa che mi viene in mente da fa signori non è che posso fare altro allora questa casa io la farei centrale così mi evito il problema di stare in mezzo alle balle quindi la farei ma qua perché no 123 no qua no 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 perché ci sono gli slab che poi spuntano di un blocco quindi meglio qua 123 sicuramente charlie ci allunghia ci arriviamo che dire non lo so ci allunghiamo fino qua e qua possiamo fare qualcosa di questo tipo 123 non mi dire la stoffa pari no bene le cose pari su minecraft ragazzi sono una cosa brutta non si fanno perché poi non ti trovi mai con la porta di mette cose viene sempre uno schifo sempre meglio farle dispari che almeno sei tranquillo che il centro lo trovi se le fai pari è un casino trova il centro tipo io qua ho fatto pari e infatti il centro non lo trovo vedi vedi che succede ho detto ho detto non si fanno le cose pari quindi qua risfasciamo questi qua risfasciamo pure questo e lo dobbiamo spostare un blocco lo stanno i miei cosi qua qua 2 e 3 è che cazzo diciamo così 2 e 3 perfetto ora in teoria dovremmo riuscire a trovare la porta e infatti la porta c'è però una considerazione abbiamo fatto dispari e va bene perché il dispari ci piace la porta la metto qua così e qua ci faccio pure una finestrella che schifo non ci fa almeno per dargli un'altra faccia no secondo me ci sta la porticella ce l'abbiamo c'ho ancora degli slab di cero ancora io anche qua metterei degli bellissimi slab di ecco qua in questo modo questo qua non ci interessa perché tanto viene coperto quindi possiamo fare in questo modo qua allora sta casetta è un po più piccola delle altre probabilmente però non è un grosso problema tanto alla fine a villa c'è niente con cacchio che basta che ci hanno un letto che lo so contenti cioè non è che dici la casa è piccola la casa è grande falli dormì e non gliene frega un cacchio di niente di nessuno a questo pure gli metterò una due finestrelle così ci stanno tantissimo e un'altra finestrella questa è la casa delle finestre praticamente ce ne stanno un sacco mi serve dell'altra cobblestone ok non ci sono mob vero controlliamo le zone non ci sono zone d'ombra tutto a posto tutto a posto signori ci stiamo riuscendo tantissimo ok adesso come per le altre casupole io andrei a fare un bellissimo contorno di slab in questo modo qua perché quello l'ho fatto più alto non ne ho la benché minima idea messo sbagliato facciamo un bellissimo contorno di slab in questo modo e poi andiamo a mettere anche per questa casetta tutti gradini per fare il tetto ho finito i slab perché non è vero ce io ce l'ho tanto ripeto non è un problema perché di questo legno siamo abbastanza pieni poi finirà tutto perché per fare tutto il contorno quello quello me finisce sono sicuro sono sicurissimo che non mi basterà però intanto lo usiamo per fare le case abbiamo altri gradini a portata di mano ce ne ho dieci ne sono pochi quindi senza che perdo tempo mi faccio degli altri gradini anche questi sono pochi scraffettiamo pure questi che affettiamo un altro po di questi e facciamo altri gradini tanto i gradini comunque ci servono se non è per questa costruzione li useremo per altro non è un grosso problema allora li saliamo quassù e andiamo selvaggiamente anche oserei dire a fare la nostra la nostra niente il nostro tetto volevo dire il nostro giro la nostra scalinata ma non sto facendo scalinata sto facendo un cacchio di detto quindi allora questo qua usiamo sti blocchi orribili per appoggio e continuiamo il nostro giro giro tondo poi ho detto già che voglio mettere dei camini insomma del fumo che esce per renderlo un pochino più vivo sto villaggio io farei una cosa del genere poi sempre con gli slab alla mano e sempre con un blocco d'appoggio questo possiamo fare una roba del genere un blocco qua e qua praticamente ci potrei fare il cammino che esce da qua perfetto secondo me ci sta come cosa ok la porta ce l'ho c'ho ancora un'altra porta molto bene e dovrei avere un letto no il letto non ce l'ho perché non ho ancora sbattuto nessuno fuori dal suo letto allora qualcuno sta perdendo il letto capita che si può avere tutto dalla vita allora io il letto questo qui lo metterei qua no qua è troppo in mezzo le balle lo metterei qua così c'ha lo spazio per uscire ok perfetto arriviamo un po di tappeti che non ci interessa arriviamo sti blocchi scemi tappeti maledetti da tutte le parti quanto li odio e poi sono pure carini non è che li odio perché sono i tappeti è la posizione dove stanno qua che non c'entra un cacchio quello che devo fare io allora qui risfasciamo tutto in questo modo qua non la metto più la bombi non rompo le balle tantissimo quindi facciamo così perfetto abbiamo fatto un'altra casetta che anche carina sinceramente ora devo buttare giù questa ha secondo me una casetta centrale pure ci potrebbe stare questa la buttiamo giù intanto sicuro è lo so ragazzo mi dispiace ma purtroppo bisogna fare spazio e mettere cose nuove perché questi erano solamente dei bugi gattoli si dice così in italiano dei bugi gattoli d'appoggio dove farli stare poverini che poi non ci scordiamo che io lassù c'è un altro villager incatenato prigioniero o mai posso una volta non si espandeva ma questo soprattutto era pozzo non mi ricordo ma non lo so mangiamo un attimino allora controlliamo un attimo dove fare quest'altra casa non potrei fare sicuramente una casa sicuramente la posso fare ma proprio cento cento quindi qua posso fare uno due tre come la facciamo questa casa sempre dispari leviamo sto tappeto porca zozza mi sono emozionato troppo uno due tre e la farei arrivare vediamo un po dove farla arrivare fino qua perché no uno due tre quattro cinque fino qua secondo me ci stavano due tre magari questa casa la potremmo fare leggermente più diversa dalle altre che ne so la facciamo arrivare qua così potrebbe essere una roba potrebbe essere carino uno due tre e quali facciamo un altro posto così è proprio piccola però così vabbè vediamo quello che viene fuori uno due tre allora proviamo a vedere che cosa abbiamo creato in questo modo forse una stronzata probabilmente abbiamo fatto una stronzata però voglio dire il bello di minecraft eppure questo che provi sfasci rimetti e sei contento diciamo così qua c'è un tappeto maledetto questa non so se la devo mettere così amico devi un attimo lo so che questo lato è pari però in questo caso non ci potevo fare niente vediamo un po com'è così da dall'esterno non è brutta non è brutta dai peccato che su questa parete non ci posso mettere una finestra ma non ce ne frega nemmeno tanto qui momentaneamente ci piazzo questi la porta di lato ci piace potrebbe anche piacerci sì mi piace molto perché posso fare una finestra doppia bella molto carina qua possiamo fare quello che vogliamo praticamente qua ci facciamo due finestrelle così e anche qua dietro ovviamente essendo dispari lo spazio per un buco di finestra ci esce qua facciamo la stessa cosa in questo modo qua e questa casa pure c'è un sacco di finestre non male signori attenzione non male ora mi servirà magari sta casa ci potevo pure fa due ingressi pensandoci bene potreva poteva essere un'idea non lo so poi c'è sempre tempo no 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 cosa cazzo la sto facendo parisci immediatamente dalla mia vista allora leviamo sti blocchi qua terra che non ci servono assolutamente a nulla e ci mettiamo gli slab del look questi qua belli carini mi sa che alla fine metterò gli slab pure nell'altra casa dove avevo messo gli stombi di stone blick slab perché effettivamente mi piace molto l'accostamento mi serve un'altra porta signori attenzione un'altra bellissima porta di spruce che devo scraffettare quando quando è il momento di scraffettare signori si scraffettano così ci prendiamo un'altra porticina e l'andiamo a mettere qua così perfetto altri slab facciamo il giro pure su questa casetta e secondo me viene bene così perfetta poi dobbiamo sempre vedere se la gente si può infilare si può calare dall'alto mob mosti i cazzi e mazzi ma per il momento viene bene a questo punto signori miei non ci resta che salire quassù le scalette le abbiamo fatte ma 17 ci faccio sti calchi dobbiamo fare altre scalette ovviamente magari posando pure dei blocchi che non mi servono la cobblestone è sempre meglio tenerla questo non buttiamo la questo non mi serve non mi serve non mi serve tu forse mi servi tu sicuramente non mi servi più perché ormai ti ho deciso che non serve più un cacchio facciamoci un po di scalette magari ecco se fai così viene meglio 61 scalette potrebbero bastarci potrebbero bastarci un rumore strano no o sono le allucinazioni o è di nuovo uno slime il che ci fa pure piacere allora mettiamo scalette ragazzi facciamo così ma ci abbiamo un tetto un po più elaborato niente di complicatissimo per carità alla fine voglio di quelle le scalette si intersecano sempre quasi alla perfezione o quasi sempre alla perfezione scegliete voi come mettere i termini però alla fine un bel tetto carino viene sempre ok qua l'abbiamo fatto un bel blocco d'appoggio qua andiamo così ecco vedete questo è il caso in cui il tetto viene una merda potrebbe anche essere perché perché c'è il discorso del pari quindi non lo so se viene bene non lo so bisogna vedremo che finiamo il giro che succede allora qua sicuramente viene va bene qua sicuramente no sì allora qua dovrebbe venire bene se io lo metto bene chiaramente se lo metto al cazzo di cane non viene bene vediamo qui che succede attenzione sta venendo magicamente bene ok contro ogni previsione è venuto bene non ci davo due lire mettiamo un blocco di appoggio pure qua e qua il camminuzzo lo farei proprio centrale che secondo me potrebbe avere il suo perché vediamo come non è brutta attenzione molto carina questa casetta è molto carina poi con i giusti accorgimenti e dettagli secondo me viene un bel villaggetto non grandissimo perché chiaramente non è che vogliamo fare il villaggio grande noi serve un villaggio per far sta quei tre quattro villager che ci servono a fare cose ora vogliamo fare un'altra casa ne abbiamo fatte quattro però alcune sono anche grandi che potrebbero ospitare due villager tipo questa tranquillamente due villager tipo ospita io qua ce lo toglierei questa pavimentazione ce la toglierei signori ce l'ho gli slab sì in teoria sì forse vediamo verifichiamo forse non abbiamo abbastanza slab però forse riesco a farmeli mi ricordo se c'è degli altri blocchi di regno mi pare di sì tre sei nove e dodici e ciao eh no ce li ho ce li ho ce li ho attenzione ce li ho ce li ho quindi possiamo tranquillamente farci degli altri slab sei dodici me ne faccio dodici allora io ho problemi col mouse ve l'ho già detto ogni tanto questo pirla si si rincoglionisce non voglio fare pozioni almeno non ancora attenzione non ancora ok ok perfetto beh bene va va bene va bene ci piace adesso dovremmo rifare i sentieri un po più larghi magari perché no rifacciamo i sentieri signori la terra ce l'ho in teoria dovrei avere qualche po di terra è poca questa terra me ne servirà dell'altra vabbè approfittiamo per dare uno sguardo dall'alto a quello che stiamo facendo allora signori non è per niente male è piccolino sicuramente piccolino però non è per niente male con dei sentieri fatti un attimino meglio secondo me viene proprio un bel gelino bello mi piace mi piace immaginatevi il lago tutti i dettagli le palafitte di legno intorno che fanno il recinto secondo me può venire molto bello molto bello ok andiamo a prendere quello che ci serve e continuiamo ok ragazzi allora cerchiamo di finire questo villaggio nel mentre è passato un giorno perché sto ripreso la registrazione e siamo nello snapshot 24 v 13 a sono successe cose nuove in questo snapshot hanno aggiunto hanno modificato la mazza una roba del genere che già avevano aggiunto hanno messo un altro item per per darti il baddome non lo so prima o poi riprenderò a fare i video sugli snapshot ma non è questo il momento comunque allora io una cosa che voglio fare è mettere appunto tutte le staccionato staccionate le palafitte intorno a questo villaggio poi abbellirlo prima di fare questo però mi conviene portarci l'altro villager perché vi ricordo che noi abbiamo un altro villager là dentro un villager bloccato non mi ricordo perché probabilmente se l'abbiamo bloccato c'era un buon motivo sicuramente io userò questo blocco per attrarlo in modo irreversibile a me perché giustamente lui mi deve seguire il piccolo infame bastardello quindi facciamo così lo liberiamo ecco qua io scendo qua guarda amico ti metto a ti piace quello vabbè è uguale non c'è problema ci prendiamo questo figurati chi se ne frega ecco qua vieni toc seguiamo questo però non ti devi prendere gli altri blocchi devi venire qua su vieni qua vediamo se ci viene e non ci viene perché è stupido giustamente no forse ci viene vabbè ho capito devo sfasciare sto blocco porca zozza ok c'è l'unico blocco che ti puoi prendere è questo quindi affezionatici bravo così mi piaci e vieni qua gentilmente a questo dove sta dove cazzo la sta andando quel malato di mente amico ma perché ogni volta che devo fare una cosa il villager fa il coglione scusami ma non è per cattiveria ma se ti ho messo il blocco qua e niente lui deve saltare come un deficiente poi dice io non li prendo a calci nel culo la c'è il blocco ma sei stupido cretino e vabbè raga cerco di portarlo giù a sto scemo dove sta andando dove qua c'è un blocco ma allora quel villager signori ha seriamente dei problemi sta andando all'interno è stupido è anche giorno è decisamente stupido non è un problema non è assolutamente un problema perché adesso io lo frego in questo modo metto non volevo mai mettere te cosa cazzo la centri tu volevo mettere ma porca zozza ma che c'ha sbaglio sbaglio a selezionare volevo mettere una barchetta qua un blocco qua ora in teoria lui dovrebbe sentirsi attratto in un modo incredibile dal blocco è vero che ti senti attratto e ti senti attratto maledetto schifoso vediamo se se viene qua attendiamo con fede ok sempre sul lavoro l'ho dovuto menare ovviamente infatti è molto incazzato ora se sali nella barchetta io sono contento amico non è che no lui non sale perché bastardo mo deve sali per forza perché non sale se ma dovrebbe salire raga io sono molto tentato ve lo giuro proprio la tentazione di seccarlo male a sto villager non è per cattiveria ma mi viene proprio istintivo cioè proprio sento il desiderio l'impulso di menarlo ok guardate che ho dovuto fa per bloccarlo qua sopra sto deficiente va bene vediamo di portarlo giù e raga purtroppo i villager sono così sono stupidi come la merda probabilmente hanno problemi vediamo se riesco a raggiungere il villaggio senza morire male ok dai ci dovremmo essere perfetto stiamo portando anche l'ultimo villager nel villaggio così possiamo palafittare il tutto qua piove io stavo pensando quasi quasi di coprire questo villaggio con del vetro non sarebbe una brutta idea perché in questo modo mi risolve un sacco di rogne se ci pensate bene non devo preoccuparmi di proteggerli assolutamente perché sono protetti dal vetro quindi nessuno può entrare e potrebbe venire anche bello l'effetto nebbia quello che avevamo detto che dovevamo fare allora io intanto inizio a fare questi lavori vediamo quello che ne viene fuori allora ragazzi abbiamo fatto il sistema di palafitte non mi ricordo come si chiama recinto comunque abbiamo messo tutti questi bei pillaroni di spruce che secondo me ci sta molto bene ora devo pensare all'idea di coprire tutto con del vetro per fare l'effetto nebbia però non ne sono molto convinto intanto sicuramente dobbiamo fare i sentieri aggiungere qualche dettaglio diciamo una cosa molto rapida ovviamente prima devo togliere tutti sti tappeti maledetti che quasi formano ogni cinque secondi va bene non è un problema poi non è che si formano da soli sono formati con la bombi non pensate che col muschio all'improvviso sponano dei tappeti quando spari la bombi la sponano i tappeti poi si fermano allora riprogettiamo signori il sistema dei sentieri di questo villaggio quindi andiamo a chiudere tutti andiamo a rompere tutti sti blocchi che non ci servono e rimettiamo un po di di sentieri allora io sicuramente farei un bel sentiero che col che collega tutte le entrate secondo me ha senso fare una cosa del genere giusto perché le entrate devono essere collegate ai sentieri mi sembra una cosa giusta quindi facciamo così iniziamo a mettere della terra che poi andremo a vedere come sistemare meglio allora qua la terra del sentiero già c'è io però devo decidere il sentieri grandi quanto uno o tre secondo me tre sono più belli è vero si mangiano un bel po di spazio però tre sono sicuramente più fighi da vedere anche perché si fa con l'effetto sfumato del sentiero che lo puoi avere solamente quando c'hai un sentiero più largo perché voglio dire allora questo è il sentiero da uno però se lo facciamo da due si crea sta sfumatura molto figa che secondo me è molto più bella quindi prima fare dei sentieri larghi tre anche se sono effettivamente molto larghi però ci proviamo che vuol dire farli pure da qua anche da qua ovviamente insomma da tutte le porte escono sentieri larghi tre con questi se non si levano dalle balle io non posso finire ok grazie oppure facciamo che dalle porte escono dei sentieri larghi uno che poi si uniscono a un sentiero largo tre principale secondo me c'ha più senso facciamo così eh lo so sto a fare un sacco dei cambiamenti però secondo me ha più senso allora io farei un sentiero da tre che parte da qua più o meno qua ok così in questo modo bel sentiero gigante dovrebbe arrivare più o meno al centro del villaggio quindi più o meno qua qua sotto che c'è sta rogne giustamente vedi che quasi scoprono casini che poi uno fa e invece non li deve fa ok facciamo così va benissimo poi questo sentiero da tre lo farei andare tranquillamente qua così eh vedi che è tutto centrato perché poi qua c'è la porta che ci conduce alla farm di slime farm naturale voglio sottolinearla questa cosa perché è importante e poi qua lo facciamo continuare sempre dritto per dritto ma stanno ancora tappeti ma porca zozza ma quanti cazzola ce ne stanno di sti tappeti molte ore così dovrei avere abbastanza terra per fare tutto in teoria sì ok trasformiamo sti sentieri in sentieri giustamente e ora dovremmo occuparci un po di illuminazioni io vorrei mettere tantissimo delle lanterne da qualche parte quindi per avere delle lanterne mi serve del ferro devo uscire poi qua ho pensato che ci possiamo fare tranquillissimamente la porta che possiamo usare per entrare nel villaggio da sopra quindi una sorta di tuner che da qui praticamente ci conduce su non so ancora come farla però insomma l'idea è quella mettiamo delle torce così vediamo di morirci male mettiamo della cobblestone così ci ricordiamo che qua ci va quella porta e andiamo a prendere un po di ferro che sicuramente ci servirà allora come si facevano le lanterne se non mi ricordo male si facevano nuore sai po blocks bloccati va bene sono contento si facevano così 8 sono poche facciamo così ok 24 lante va bene faccio di più di lanterne tanto di sé poi in teoria potremmo anche fare delle catene le catene come si facevano non mi ricordo così e con l'ingotto in mezzo potrebbe anche essere vediamo se c'è dell'altro ferro sicuro vabbè qua ce n'ho un sacco perché giustamente ho smeltato un sacco di roba se non mi ricordo male le catene si facevano così mi ricordo ancora 25 catene potrebbero bastare ok e scegliamo come fare sti sti illuminazione una sorta di lampioni carino allora vediamo se viene qualcosa di decente c'ho una mezza idea però forse sono lampioni un po troppo prepotenti nel senso che sono troppo grandi comunque il villaggio è piccolino però secondo me qua ci potrebbero anche sta bene allora la build hack che praticamente voglio fare consiste in allora facciamo degli slab già ce l'ho allora proviamo a fare uno di questi cura poi facciamo degli delle fence in questo modo qua ok e vediamo che cosa ne viene fuori tipo se io metto vabbè ovviamente non così maledetto ma è porca zozza però avete rotto le balle così poi qua ci possiamo mettere una fence del genere così fare qualcosa di più alto ok posso fare una roba del genere se si levano tutti dalle balle forse non è bellissimo però potrebbe avere un suo perché vediamo un po allora non mi dispiace devo essere sincero non è nemmeno questa grande cosa forse andava fatto un pochino più alto effettivamente farlo più alto poi è sempre un casino ma sempre perché il villaggio è piccolino ma se questo si togliesse dalle balle non dico tanto però amico mio è che così forse tre sono troppi no tre sono troppi poi sono tutti alla stessa altezza non mi piacciono mai devo farlo più alto signore devo necessariamente farlo più alto ora questo villager si è chiaramente innamorato di me perché non mi lascia sta sto l'incoglionito amico mio è per favore è rotto proprio le palle allora possiamo fare da quassù sicuramente una bella carina che scende così e questo qua perfetto secondo me ci sta poi qua ci possiamo mettere uno così e qua sotto una lanterna proprio scialla mi piacciono le cose di solito mi piace la simmetria però quando fai questi lavoretti qua non devi essere troppo simmetrico io ti secco malissimo se non ti levi dalle balle vediamo un poco e ve ne pare non è brutto non è nemmeno questa grandissima opera d'arte però secondo me nell'insieme ci potrebbe stare ne mettiamo un altro qua che secondo me pure ci sta bene poi ovviamente è tutto da esaminare magari poi di cambiare ne facciamo quattro va benissimo facciamo altre fans e facciamo non ne facciamo nessuna perché non c'è materiali quindi devo scraft e tarmi questa roba qua così perfetto ok abbiamo abbastanza ne abbiamo abbastanza quanto deve essere alto 1 2 3 4 mi pare sì 4 allora ne farei uno qua sicuramente 1 2 3 è il quarto dove forza salito qualche pa e 4 perfetto poi facciamo quello più alto con la catena che si affaccia sulla strada va bene così poi ce ne abbiamo uno da questo lato in questo modo e un altro da questo lato in questo modo uno così e uno non è male non è male proviamo a farne qualcosa di più semplice vediamo così come viene sapete che lo so voi direte sei un pazzo però probabilmente questo è più è più carino è forse il semplice in questo contesto di villaggio piccolino potrebbe venire meglio proviamo tanto non ci costa nulla mettiamo un po di lanterne qua e là e vediamo quello che succede non la lanterna così dov'è il mio piccone vabbè usiamo questo chi se ne frega sì forse in questo villaggio ci sta meglio una costruzione più piccolina dai effettivamente è un po troppo piccolo per mettere ste robe apocalittiche va bene va bene non è un problema lasciamo tutto raccogliamo roba e mettiamo queste piccole illuminazioni molto easy ad ogni imbocco stessa cosa facciamo pure qua era carino come lampione per carità però è troppo grande questo villaggio non ci sta iniziamo a togliere tutte ste luci qua in mezzo alla via che sembra un cimitero magari ne mettiamo qualcuna di strategica negli angoli più più bui allora gli incroci li abbiamo fatti tutti e va bene è giorno quindi non si capisce molto bene allora io qua sicuramente una lanterna ce la potrei anche mettere una cosa di questo tipo secondo me ci sta benissimo ecco una messa così va pure possiamo fare la stessa cosa sempre con la catena magari messa in modo decente così va bene ok abbastanza luminosa la situazione qua togliamo sta torcia che non ce ne frega nulla e ci mettiamo ovviamente pure qua bella carina con la lanterna qua dietro facciamo la stessa cosa le avrei messe qua sotto ma purtroppo gli slab sono messi ad un'altezza infida e quindi non li possiamo mettere qualcosa dobbiamo rinunciare ragazzi e qua la stessa cosa ce ne mettiamo una così magari la mettiamo più su con tanto di catenina collegata bellissimo questa se ne deve andare tantissimo qua volendo potremmo fare una roba di questo tipo visto che la strada è lunga illuminiamo ok qua dietro secondo me qua dietro pure ci sta magari anche con la catena tanto per illuminare qua dietro pure potrebbe diventare buio di notte quindi mettiamo anche qua in quest'altro angolino che fa in celametti va bene qua pure con catena mi sembra giusto qua stessa cosa qua senza catena così allora qui dovrei sistemare sì è il caso di sistemare quindi rompiamo un attimo sti blocchi e ci andiamo a mettere questi che altrimenti faceva veramente schifo ok perfetto qua ci mettiamo ma sapete io ce lo metterei così proprio giusto per allora inizia a prendere un po di forma è ancora da sistemare diciamoci la verità è ancora provvisoria questa illuminazione però già non è male ora io vorrei fare un pochino di erbetta ma poco intorno qua solo che se sparo la bomb il qua mi succede un'altra volta un casino quindi potremmo metterci delle foglie che vado a prendere subito tanto mi basta avere una cesoia e facciamo anche questo ecco qua fatto questo fatto cresce un bel alberello così ci prendiamo un attimo queste foglie e dovrebbero essere perfette per quello che devo fare allora in teoria mi dovrebbero bastare mi stavo buttare giù con un deficiente non ci fate caso capita mi ero scordato che c'avevo la discesa va benissimo e raga purtroppo questo gioco fa brutti scherzi dopo un po è allora iniziamo ad usare un po di foglie così ecco magari messe proprio in ordine molto random che a noi il random in questi casi ci piace un sacco facciamo così ok vediamo quasi riusciamo a fare una cosa decente qua pure facciamo tutta una bella crescita di di cespugli da tutte le parti stessa cosa qua poi questa cesta la dovremmo togliere prima o poi per il momento no perché non c'ho lo spazio tutta roba che cesta dentro va dietro possiamo fare qualcosa di quel tipo si facciamo così ok ecco fatto facciamo la stessa cosa anche qua si è una cosa molto scialla stessa cosa pure da quest'altro lato ecco le mettiamo un po a random non devono necessariamente avere un ordine preciso deve essere messo in modo che è carino all'illuminazione ci sta ok già c'ha un'altra faccia questo villaggio effettivamente già mi piace di più ora mancano un po di costruzioni utili che dovremmo andare a mettere qua in giro per il mondo ok vediamo dall'alto che faccia c'ha allora stavolta lo voglio vedere da qui saliamo dopo allora ragazzi sinceramente non mi dispiace è ancora da ottimizzare bene ci queste illuminazioni che mi convincono proprio tantissimo sicuramente qua dobbiamo metterci qualcosa di più caratteristico tipo che ne so una coltivazione una piscinetta qualcosa per caratterizzare il villaggio però secondo me il villaggio sta prendendo forma poi ci mancano appunto i comignoli dei camini dove uscirà il fumo la ci abbiamo la farm di slime lì faremo l'ingresso al villaggio che probabilmente ci avrà non lo so un ingresso da qui da qualche parte qua ci avremo una porta e scendiamo nel villaggio e poi dobbiamo decidere se chiudere tutto con del vetro per fare il famoso effetto nebbia e contemporaneamente tenere pure il villaggio al sicuro non lo so per un solo motivo perché non ho l'optifine e quindi il vetro mantiene quei blocchi di merda che si vedono se avessi l'optifine ci avrei già provato però senza optifine non non mi convince comunque ragazzoli io spero che questo video vi sia piaciuto io qua sto facendo un outro molto pericolosa perché potrei cadere e morire da un momento all'altro porconando in aramaico antico ma non importa comunque è ciò pure pillager la live di bastardi li vedete comunque dicevo spero questo video vi sia piaciuto io vi auguro una buona serata vi auguro anche una buona pasqua perché in teoria questo video uscirà prima di pasqua penso di sì quindi buona pasqua a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi